Pronteremo una cava di ghiaia, una cava libera. Adesso sono cresciuto come carpista, copro in questi luoghi. E questi potrebbero essere ottimi sport comunque. Penso proprio che non si faranno alcun problema anche a aspirare bolis di grandi diametri, quindi andrò di 22 mm. Una lamata perfetta, non si sarebbe mai o mai slamata perfettamente sul labbro inferiore.